Mori, entro, Figlione. Grazie dell'aiuto, Shadow. Sei a tutte le unità. L'uccisione non è confermata. Ripeto, l'uccisione non è confermata. Dobbiamo cercare a identificare Makarov. Capo Goldeagle a tutte le unità. Avete ordine di ritirarvi. Là sotto sono rimaste solo macerie bruciate. Non abbiamo bisogno di ulteriori conferme. Sei qui uno. Qui sei. È finita, John. Abbiamo spedito quel bastardo all'inferno. Già, l'abbiamo detto anche di Graves, vero? Makarov è morto, capitano. Non lasciarti tormentare da lui. Chiudo. Serpard vede solo ciò che vuole. Il suo nome su una vittoria e un'altra medaglia sul petto. Tu cosa vedi? È ciò che non vedo a preoccuparmi. Se è vivo, ce lo farà sapere, capitano. Dove e quando resta da vedere. Abbiamo un debito verso la nostra Task Force e l'ULF per il successo contro Vladimir Makarov e il suo esercito. Si è parlato molto dell'ULF. Farah Karim e i suoi soldati sono dei terroristi? No, Farah Karim è ed è sempre stata un'alleata degli Stati Uniti e dei nostri partner occidentali. E la comandante Karim come si è procurata armi americane? Per quasi un decennio ho inviato armi alla comandante Karim per supportarla nelle missioni contro Al-Katala e le incursioni russe nell'Urzikistan. Spedizioni illegali? No, per poter salvare delle vite ho inviato delle spedizioni illegali, con fondi che ho approvato io stesso. Silenzio, silenzio, prego. Generale Shepard, nell'ottobre 2022, ha autorizzato la Shadow Company a sparare su una Task Force sotto il suo comando alla Salmas, Messico? No, non l'ho fatto. Signor Graves, lei ha ricevuto l'ordine di sparare contro la TF-141? Sì, signore. Silenzio, silenzio in aula! Chi le ha dato quell'ordine? Il generale Shepard. E lei ha eseguito quell'ordine Graves? No, nel modo più assoluto. Silenzio, silenzio! Oh cazzo, si sono pugnalati alle spalle. Pensano solo a salvarsi la pelle. Ognuno pensa per sé. Questa è la differenza tra noi e loro. Facciamo finta di niente, capo. Il modo per fermare le guerre è vincerle. Niente prigionieri. Buona caccia. Anche a te, capitano. Nick, riporta indietro Farah. Sì, subito, capitano. Bene, pronti all'estrazione. Torniamo a casa. Watcher è bravo. In ascolto, Watcher. L'M-6 ci sta girando comunicazione.